Damiano Carrara. Lo chef più bello d'Italia. In diretta tv si commuove. Con gli occhi lucidi a e, sempre mezzogiorno. Ospite di Antonella Clerici. Fa un annuncio emozionante. Mi viene già da piangere. Divento papà. Il Cuoco 38N svela che la moglie. Chiara Magenti. Con cui si è unito in matrimonio sabato 8 luglio 2022. È incinta. I due ancora non conoscono il sesso del bebè. Damiano. Titolate dell'atelier che porta il suo nome. Laboratorio di pasticceria a Lucca. E conduttore di cooking show in televisione. Non cede totalmente all'emozione. So che vuoi dirci una cosa bella? Lo incalza la Clerici. Bellissima replica. Lui mi viene già da piangere. Molto molto presto. Diamo la bella notizia. Chiara aspetta un bimbo o una bimba. Non lo sappiano ancora. Saremo in tre. Divento papà. Sai che mi viene il magone anche a me? Che bella donna che è tua moglie. Hai detto che un giorno ce la porti? Dice Antonella. E aggiunge. Ci sono venuti a tutti gli occhi lucidi perché è proprio una bella notizia. Sì bellissima. Sottolinea ancora Carrara. La presentatrice poi si raccomanda con lo chef. Ti do una notizia. Goditela. Perché pi in un attimo. Mia figlia ma è il domani compie 15 anni. Sembra ieri. Quindi i figli bisogna goderseli. Damiano e Chiara sono una coppia anche sul lavoro. La 34enne è la general manager dell'atelier Damiano Carrara. Si occupa quindi proprio della pasticceria aperta dal famosissimo cuoco a Lucca. I due stanno insieme da oltre 11 anni e hanno un simpatico pincer di nome Paco. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.